Katiuscia Marini, candidato presidente della coalizione del centro-sinistra alle elezioni per la presidenza della regione Umbria. La campagna elettorale inizia in un luogo altamente rappresentativo del territorio umbro, la Perugina. Abbiamo visto il museo del cioccolato, la scuola di cioccolato e infine anche un incontro con le rappresentanze sindacali. Perché la campagna elettorale inizia proprio qui? Perché sarà una campagna elettorale che parla di lavoro e di lavoratori, che è la grande questione che abbiamo in Umbria. E questo è un simbolo del lavoro e dei lavoratori in Umbria. Perché dobbiamo parlare di industria e del futuro dell'industria e anche di quella manifatturiera. Perché dobbiamo parlare di una modalità con la quale nuova collaborazione tra istituzioni pubbliche ed imprese possono servire anche alla qualità sociale. Abbiamo visitato l'asilo nido dell'azienda Perugina. Perché la regione si occupa anche di sicurezza nei luoghi di lavoro. Perché pensiamo ad una relazione importante con l'impresa e l'impresa multinazionale. Abbiamo 18 multinazionali in questa regione e quindi questa è una modalità anche attraverso la quale poter tenere relazioni. Quindi è la scelta di un luogo simbolo di un luogo. ...di lavoro, di impresa e del futuro dell'Umbria.